Flavio Briatore protagonista dell'ultima puntata di Zona Bianca. Il noto imprenditore è apparso scatenato sul tema del caro ombrelloni. In tutta Italia, non solo in Puglia, i rincari nei mesi estivi di luglio e agosto sono cosa a cui gli italiani sono abituati negli ultimi anni. Per due lettini e un ombrellone infatti si arriva a sborsare cifre considerevoli, e spesso a fronte di un servizio che non giustifica una spesa alta. L'imprenditore in particolare ha puntato il dito contro gli stabilimenti balneari in Puglia. Io ho visto le immagini di quei bagni lì, 60 euro mi sembrano una follia da spendere in Puglia. L'imprenditore ha commentato il servizio mandato in onda, in cui si sottolinea quanto costa una vacanza nella zona del Brindisino. Briatore ne ha approfittato per criticare in generale gli stabilimenti pugliesi, per lui infatti cifre che vanno da 60 agli 80 euro per un ombrellone e due lettini sono, una follia. Non siamo lontani dai prezzi di Monte Carlo, qui i costi mi sembrano overpriced, sottolinea l'imprenditore. Dipende anche da servizio, persone, specialità dei camerieri e del ristorante, dalla qualità. Iscriviti e attiva la campanella.